L'esperienza è un'emozione sempre nuova a far parte di realtà importanti come questa e spero che ci si possa, durante l'anno, togliere le soddisfazioni importanti. Io non sono abituato, per quanto possa sembrare in qualche senso, non sono abituato a parlare il microfono davanti alla gente, sono abituato a parlare dietro il microfono, dietro una radio o dietro una tastiera. Passate alla barca!